Noi siamo stati i protagonisti di una mostra su Leonardo e Vitruvio e allora abbiamo pensato di promuovere un'iniziativa a livello nazionale che raccontasse un po' quello che è successo in questo anno straordinario su Leonardo sul Cinquecentenario. Abbiamo chiamato a raccolta alcune tra le mostre più importanti che sono svolte in Italia e in Europa. Sono circa 14 le mostre che verranno raccontate attraverso i loro curatori, attraverso studiosi di grandissimo valore, attraverso direttori di grandi musei italiani. La mostra, oltre il cerchio e il quadrato, ha inequivocabilmente segnato un passaggio importante nella narrazione di questi due individui protagonisti assoluti della loro epoca. Ovvero per la prima volta è stato stabilito il punto di congiunzione tra loro attraverso i disegni e gli scritti di Leonardo, cosa che fino alla mostra di Fano non era mai stato mostrato e documentato. Ma quali sono gli aspetti anche che verranno analizzati in questa giornata di studi? Capire effettivamente le novità di queste mostre, capire queste mostre come hanno raccontato Leonardo in questi anni, ma chiedendogli anche cosa è successo con Vitruvio, cioè quali sono stati gli elementi di novità che sono emersi in questo rapporto. Fano è stato protagonista in questo, nella sua mostra, in cui ha cercato di andare oltre il rapporto con l'uomo vitruviano, cioè di trovare un rapporto molto più profondo tra Leonardo e Vitruvio e credo che ci siamo riusciti, ma lo vogliamo chiedere anche agli altri. Il calibro degli studiosi e curatori che saranno presenti a Fano il 14 febbraio, cosa assai rara, tra l'altro vederli assieme e assistere alle loro disquisizioni contemporaneamente in un unico contenitore, ha anche un'altra valenza riconducibile però all'organizzazione, ovvero il centro studi Vitruviani di Fano. La cosa che mi inorgoglisce e ci inorgoglisce è che dopo dieci anni portare a Fano tutti questi studiosi, fare di Fano il centro, la capitale d'Italia su Leonardo e Vitruvio, implica anche un riconoscimento del mondo scientifico, del mondo accademico, del mondo della cultura rispetto a questa città.